Usura, estorsione, rapina in danno di istituti di credito, illecita detenzione di armi da sparo e traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre un chilogrammo di cocaina trafficata ogni due settimane. Sono questi reati contestati a quattro albanesi, due rom giuliesi e un napoletano. In totale sette misure cautelari restrittive. Una operazione svolta dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Giulianova, coordinata dalla procura della Repubblica di Teramo. Intanto spieghiamo che è un'operazione questa, una nuova operazione che parte da un'operazione precedente, conclusa l'anno scorso. Nel settembre, lì individuiamo un traffico di stupefacenti e individuiamo soprattutto un napoletano e un romo di grosso spessore criminale, i quali facevano rapine, facevano usura e questo ha consentito lo sviluppo di questa indagine, consentendo di sventare alcune rapine, accertarne altre e verificare che poi i proventi di queste attività illecite venivano reinvestite sia attraverso il prestito ad usura a dei vari imprenditori, i quali non erano poi in grado di poter pagare, percentuali fino al 600%, per cui è stato sequestrato anche due appartamenti per un importo di circa mezzo milione di euro e consentendo soprattutto di arrivare un vasto traffico di cocaina che da napoletano arrivava e veniva distribuito attraverso i rom, attraverso gli albanesi, attraverso questo gruppo napoletano. La cosa che ci tengo a sottolineare è che in perfetta armonia, in perfetto accordo con la procura, noi abbiamo sempre cercato di sventare le rapine, non abbiamo mai permesso che le rapine venissero comunque compiute, sia anche per un discorso di incolumità e di opportunità. Tra le banche quella di Tortoreto, la Caripe, giusto? Sì, principalmente quella. Sono stati i rapinatori presi in fraganza? L'abbiamo presi prima che si accingessero a fare la rapina proprio, abbiamo trovato anche delle armi. Le vittime dell'usura invece imprenditori? Sono imprenditori, imprenditori della zona costiera, di Giulianova, Tortoreto e via dicendo.